Assessore Santilli, centri estivi del Comune di Pescara, nonostante tutto si riparte, si riparte ovviamente rispettando i protocolli, però ci sarà la possibilità per tanti giovani della nostra città di poter usufruire di questi servizi? Assolutamente sì, ci siamo attivati assieme ad altri assessorati, quindi siamo cinque assessori coinvolti in questo discorso. Mi faccio io da portavoce, praticamente ci saranno i centri estivi per i bambini che vanno da 0 ai 17 anni, noi abbiamo creato, dato la possibilità con due bandi, uno è uscito per far fare la domanda alle varie associazioni cooperative e l'altro è uscito due giorni fa per le famiglie per aderire a questa attività. Saranno centri estivi che ovviamente avranno anche un costo per l'amministrazione comunale, ci sono però dei fondi a disposizione? Per l'amministrazione comunale diciamo relativamente in quanto sono dei fondi nazionali che sono stati girati alla regione, la regione Abruzzo dai fondi nazionali ha ricevuto 3 milioni e 300 mila euro che adesso dovranno essere ripartiti per tutti i centri estivi che saranno organizzati nella nostra regione. Ci saranno diversi parchi della città di Pescara dove sarà possibile svolgere attività? Le associazioni potranno fare la richiesta, le attività saranno svolte principalmente dentro i parchi ma anche all'interno degli impianti sportivi. I impianti sportivi che sono lo stadio Adriatico Giovanni Cordacchia, il campo sportivo di Zanni e il campo sportivo dei Gesuiti. Poi abbiamo sei parchi coinvolti, il parco Calipari, il parco dell'accoglienza, il parco della pace e poi il Baden Powell.